Sono oltre un milione in Italia le persone affette da malattie rare, il 70%, 7 su 10, sono bambini o ragazzi con meno di 14 anni. Una malattia si definisce rara quando colpisce meno di 5 persone su 10.000. Quelle conosciute ad oggi includono da 6 a 8.000 sindrome, di cui l'80% di origine genetica e il 20% determinato da malattie multifattoriali. Il problema maggiore per chi ne soffre sono le lunghissime attese per una diagnosi corretta, che vanno dai 4 ai 7 anni, segnati da odissee tra specialisti, test e diagnosi errate, ed il tempo trascorso nei centri di cura 5 volte maggiore rispetto ad altre persone. Ma ottenere una diagnosi precoce può essere determinante per l'avvio di una terapia adeguata, per la qualità della vita e a volte per la vita stessa dei pazienti. Tra i centri di cure presi in carico di eccellenze in Italia, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, riferimento non solo della rete regionale ma anche di quella europea. I pazienti con malattie rare sono dei gioielli, sono unici come appunto spesso le loro condizioni. La ricerca è fondamentale nelle malattie rare perché ci permette di aiutare questi pazienti ad andare avanti nella loro vita che deve essere la migliore possibile. Dove la ricerca ancora non ha prodotto dei risultati, cioè dove non ha portato a sviluppare delle terapie, e la presa in carico di questi pazienti è fondamentale per non farli sentire soli. E di diagnosi veloci e ricerca delle terapie parla anche il Capo dello Stato in un messaggio diffuso oggi. Il dettato costituzionale relativo alla tutela della salute, dice Mattarella, non consente eccezioni. Diagnosi rapida e terapie efficaci rappresentano priorità su cui concentrarsi per assicurare alle persone con malattia rara il diritto alle cure e un'assistenza sociosanitaria che permetta loro di convivere il più serenamente possibile con la propria patologia, vincendo l'isolamento e partecipando in maniera significativa alla vita della società.